Cent'anni fa all'incirca, tapum, l'Italia divenne una. Dalla Sicilia alle Alpi, tapum, che arriva il tricolor. Cent'anni fa all'incirca, tapum, di scuole ce n'eran poche. Miseria ed ignoranza, tapum, all'ombra del tricolor. Disse l'Italia neonata, tapum, mettiamo le mani avanti. Se il popolo è pezzente, tapum, conviene lasciarlo così. Il più grande problema che l'Italia dovette affrontare nel suo costituirsi a stato moderno fu di creare la coscienza unitaria nei cittadini. Questo compito venne affidato in gran parte alla scuola, ma esso presupponeva la creazione di condizioni nuove di vita. Invece le miserie, le ingiustizie, le arretratezze dei vecchi stati si trasferirono nel nuovo. La legge Casati del 1859, nonostante prevedesse l'ordinamento della scuola popolare, rispondeva sostanzialmente agli interessi delle classi privilegiate. La cultura del popolo rimase ristretta a pochi e non andava oltre il secondo anno di studio. Contro la scuola nascente, tapum, del nuovo Stato italiano, Quero e Reazione, tapum, uniti erano già. Su mille italiani, tapum, 860 Erano analfabeti, tapum, all'ombra del tricolor Dal nord e il sud dell'Italia, tapum, il centro è già profondo Lombardie e piemontesi, tapum, il monopolio hanno già. I gesuiti rivendicavano alla Chiesa la prerogativa di amare i poveri e il diritto di perpetuare la loro ignoranza perfetta e la loro perfetta sottomissione. Mezzo sicurissimo di benessere materiale è il lavoro e l'assenza di vizi. Ora al lavoro si richieggono le braccia e non l'alfabeto. Nel 1871 vi erano in Piemonte 6.763 scuole, in Lombardia 6.263, 940 in Calabria e in Sicilia 678. Non v'è bisogno di libri quando si muore di fame. Così gridò la popolazione di Acerra, non risparmiando la biblioteca comunale. Nell'Ottocento la scienza, tapum, con la tecnica avanza nasce il positivismo, tapum, all'ombra del tricolore. Mai falli da speranza, tapum, che questo cambi la scuola. non bastano fede e parola, tapum, ed il padrone lo sa. E sa che un mezzo sicuro, tapum, è conservare il potere e controllare sin d'ora, tapum, che al popolo insegnerà. Il movimento detto positivismo suonò al suo nascere come annuncio liberatore dalle illusioni romantiche e dalla metafisica. Esso mirava a saldare concretamente i problemi educativi sulla realtà sociale e politica, ma ben poco potee contro le condizioni di miseria e squallore che avvilivano la scuola italiana. Tema di un concorso magistrale del 1895 Ad un buon maestro occorrono tre cose Un po' di sapere Molto cuore E devozione senza limiti Al proprio dovere Sotto i ponti italiani, tapum, e qualche volta anche sopra L'acqua intanto passava, tapum, all'ombra del tricolor Positivismo che muore, tapum, fascismo che si prepara All'orizzonte gentile, tapum, sul cazzo il tricolor Anche se cambiano i tempi, tapum, anche se cambiano i nomi Sono sempre quelli padroni, tapum, all'ombra del tricolor Scrive Augusto Monti nel 1922 Quando si farà la storia della scuola della terza Italia Si vedrà che il fatto più notevole di tale periodo è stato questo Una classe dirigente che riesce a fare per 60 anni Una politica scolastica prettamente di classe Il popolo, la plebe e proletario Se vuole, se può Va in questa scuola E ne percorrà anche un grado solo Il risultato è sempre quello Vi entra popolo, plebe, proletario E ne esce borghese Le sono passate le guerre, tapum Passo la resistenza Quante generazioni, tapum All'ombra del tricolor Siamo arrivati al mille, tapum Nel novecentosettanta Sono sempre quelli padroni, tapum All'ombra del tricolor Spesso promossa in matino, tapum Sempre bocciata in storia L'Italia è ripetente, tapum All'ombra del tricolor Pesso promossa in latino, tapum Sempre bocciata in storia L'Italia è ripetente, tapum All'ombra del tricolor Sfogliando il sussidiario Ovvero i bimbi come li vorrebbe il padrone Dolce è la giornata dello studente Che si apre alla vita Ogni mistero glorioso e caudioso L'insegnante gli svelerà Questa è la scuola Come la Madonna Essa previene i tuoi desideri Essa risolve le tue difficoltà Non sbrecate tempo a far domande Il tempo è denaro Aprite in Letizia il sussidiario Vi troverete tutte le risposte Il silenzio è d'oro Non inseguite pane e fantasie Non coltivate mai curiosità Tanto va la gatta all'ardo Ascolta capocchino E non ti pentirai Non sappia il tuo vicino Ti banco quel che fai La cosa più sacra È la tua pagella Un dieci incondotta È la cosa più bella Obedisci e ringrazia Chi ti dà la cultura Del maestro bisogna Aver sempre paura Mentre tu studi felice ed ignaro Per te lo Stato previdente prepara Con mano si cura la tua vita futura Con mano si cura la tua vita futura Con mano si cura la tua vita futura Il mio papà dice che a scuola si dovrebbe parlare anche di politica La mia mamma mi ha spiegato che io sono nata sotto un cavolo Mentre il mio fratellino Luigi l'ha portato alla cicogna Madre aureolata Bella di certo è un angelo Alleluia Alleluia Il nonno quando parla della grande guerra che ha fatto in trincea Dice che è stato un massacro inutile Voluto dalla borghesia per guadagnare soldi coi cannoni Nonno Disfattista Per fortuna morirà presto Alleluia Alleluia Mio fratello dice che gli scioperi rovinano l'economia E se continua così chissà dove andremo a finire Frate Frate Pensatore Pensatore Raccogliete il suo grido di dolore Begnatregno 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 Io abito in campagna e ogni giorno devo fare quattro chilometri per venire a scuola e quattro per tornare La sera poi aiuto il babbo a mungere le vacche Siglio Mungitore I chilometri e le vacche sono un dono Del Signore Del Signore Basta con il canto al vostro posto di lavoro aprire le cartelle e trarre il libro di testo Bosco fiorito Chiaro cielo Gira gira mondo Cuor che batte Il giocogliere Anni verdi Lieti incontri Cuore di bimbi Il mondo è la mia patria Apriamo a caso Leggete e imparate I giorni più belli Son quelli del risparmio Il miglior concime È il sudore L'agricoltore è un re Il frutteto è il suo regno Con la buona volontà I poveri ottengono tutto Luisa da grande vuol fare la cassiera del supermercato I poveri amano l'elemosina dei ragazzi L'Italia è una terra benedetta da Dio È così bella che somiglia alla mia mamma Lo stato vaticano Pur se è piccolino È il centro spirituale Di tutto il mondo Gli italiani Sono dappertutto Anche in Siberia Dove costruirono La transiberiana Piene di gallerie Che solo gli italiani Sanno costruire Il ponte si regge Con la verga Dell'operaio Assistito dagli angeli Colcinella di Gesù Prendi il volo E va lassù Colcinella di Gesù Prendi il volo E va lassù Sono ricco Non son cieco Non son sordo Non son muto Non infermo mutilato Mente aperta e cuore buono Se mi chiedi cosa sono Ti rispondo Sono ricco Bravo, bravo La scuola è proprio una chiesetta Che i suoi fedeli aspetta Anche se povera e modesta Prende un'aria di festa Quando è piena di voi Bimbi la scuola Lo studio bimbi In certa qual maniera È anch'esso una preghiera Ma via ora muoviamoci Usciamo all'aperto Una passeggiata Per le vie del paese Ci farà bene E a contatto con la realtà Che si diventa uomini Andiamo ad osservare Il mondo da vicino Infila indiana Marciare Guardarci attorno Osservare attentamente Ecco la città che vive Rumori familiari Rumori di casa Eccoci dove tutti gli uomini Di buona volontà Anche nella sorte avversa Lavorano per risolvere Nella reciproca concordia Collaborazione e fiducia La questione sociale E quello chi è signor maestro? È uno spazzino Il suo è un lavoro umile Ma siccome lui lo fa bene Si guadagna onestamente il pane Per la sua famigliola E sai cosa pensa Lo spazzino? Non tutti possono diventare ingegneri Quel che importa È che ognuno Faccia bene il proprio lavoro Anch'io da grande Voglio fare lo spazzino Saggia decisione Sai chi è È quel lomone laggiù Scuro in volto Che picchia con rabbia Sull'incudine È il fabbro E sai perché È così di malumore? Perché Egli è poco soddisfatto Che il suo nipote Voglia fare l'ingegnere È così bello e utile Il lavoro del fabbro E poi che bisogno C'è di mirare tanto in alto San Giuseppe Per affalegname Gli apostoli pescatori È più un lavoro umile È più da soddisfazione Perché diventa un'arte Quella del contadino Del muratore Del legnaiuolo E del fa 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 Bravi Sono fra le arti manuali Le più compenetrate Con la vita dell'uomo Le più innocenti E religiose Signor maestro Guardi La campagna Per l'appunto Ecco i villani Tra le zolle Il lavoro del contadino Ah non è soltanto Indipendente Salubre Ma anche fetondo D'allegrezza Senza fine Nella vendemmia Grandi e panciulli Lavorano felici E nessuno Si affatica E la zappa Oh voi non sapete Quanto sia bella La zappa La zappa non chiede Che due buone mani forti Due mani nodose Risolute Consacrate Gli attrezzi Nelle mani del contadino Sono più preziosi Dello scettro del re Guardatevi intorno Tanti colline Valli E pannocchi E vigneti Barbabietole E stalle Porcigli Conigliere Alveali Pollai E nell'aria ganti E nel cielo crulli d'ali Sotto la neve pane Sotto la grandina Il manto del Signore Davvero Davvero la speranza Brilla senza tramonti Sul cielo degli agricoltori E quando il vento cala E l'ave suona E il crepuscolo Intenerisce il cuore Oh fanciulli Accoccolati Sui rami Del ciliegio Osservate la volutà Con cui un contadino pesa Tra le mani amorose Una pera Gigantesca Capito? Questa è la vita Di tutti gli uomini Veramente uomini Non pannulloni Ed eccoci di nuovo In periferia La campagna È ormai alle spalle Sentite È la voce Del nonno di Carletto Sono vecchio Sono vecchio Sono vecchio Ed al buon Dio Ed al buon Dio Io non chiedo Che una grazia Lavorare in fonderia Fino all'ultimo 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 Lavorare in tonderia Fino all'u-u-u Fino all'u-u-u Fino all'u-u l'attimo dei miei dì Fino all'u-u-u Fino all'u-u-u Ah, cari ragazzi, gioite! La vita è davvero bella! E le occasioni per dimostrarlo non mancano. Eccoci di nuovo nel centro della metropoli, nel centro della vita! E quel signore distinto chi è? Quello è Rockefeller, un uomo straordinario. Egli credeva fermamente in Dio e amava il suo prossimo. Un giorno il signore parlò al suo cuore. Rockefeller domandò a se stesso Cosa ne faccio di tanti dollari? Cosa ne faccio di tanti dollari? Sapete cosa ne fece? Comprò un aeroplano! Andò in vacanza! Li misi in banca! No, 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 ve lo dirò io! Fece tanta carità! E andò in paradiso! Questo è un grande mistero che non sapremo mai! Anch'io da grande voglio fare Rockefeller! Ma non è necessario andare tanto lontano! Anche in Italia ci sono buoni esempi da seguire! Basti pensare a Giovanni Agnelli! Attenti! Avanti! Mars! Divenuto senatore d'Italia nel 1923 ebbe a cuore importantissime opere di assistenza sociale da lui create e non solo per la Fiat. Questa grande organizzazione industriale, una fra le maggiori d'Europa, è la dimostrazione pratica di quello che può ottenere l'intelligenza, l'attività, la volontà di un uomo quando crede e ama il suo lavoro. Ma Agnelli non è il solo! Ad esempio, a Francesco Cirio, va un altro grande merito! Con la conservazione degli alimenti, egli ha aiutato l'umanità nella lotta contro la fame! Guardate lassù in cielo, una grande luce! E Rockefeller! E Cirio! E Giovanni Agnelli! No! E' un angelo che vola! Ma no, ma no! Troppa fantasia! Gli angeli non sono quelli che volano di nube in nube spargendo luce! Gli angeli sono le infermiere, le lavandaie e gli spazzini! E questo non lo dovete dimenticare! Non pensate che sia facile diventare un Rockefeller o un Agnelli e poi ve lo figurate! Con tutte quelle responsabilità! Meglio accontentarsi di un lavoro umile e meno impegnativo e piace di più al Signore! Dirò per voi, a dimostrazione, una breve poesia! Dice il Signore a chi batte alle porte del suo regno, fammi vedere le mani, saprò se ne sei degno! L'operaio fa vedere le sue mani piene di calli, han toccato tutta la vita ferro, fuochi, metalli! Sono vuote d'ogni ricchezza, nere, stanche, pesanti! Dice il Signore! Che bellezza! Così sono le mani dei santi! Avete sentito, bambini? Il mio diretto superiore consiglia un po' di ricreazione. Mi sembra un livea brillante. Facciami il giratondo, su, e cantiamo una lieta filastrocca, scritta dagli alunni della terza media unificata l'ultimo giorno di scuola dello scorso anno, all'atto di inoltrarsi lunghi molteplici e divergenti sentieri della vita che portano alla fabbrica, ai campi e talvolta al proseguimento degli studi, riservato, come sappiamo, ai più capaci e meritevoli. Il tutto in armonia e letizia, entro quell'ordinata convivenza sociale di cui parlavamo prima. È una canzone ispirata all'amore per la natura e per la società e in particolare ad un'acuta osservazione del lavoro con un felice parallelo fra uomini ed insetti, come a ricordare, se ce ne fosse ancora bisogno, che tutti, su questa terra, siamo uguali. Al cospetto del creatore. Le formicuzze vanno tutte in fila dietro il capo gran formicone che comanda la legione con la massima disciplina. Quando trovano una bagiuta o una bella briciolona se la caricano sul graffone e la portano alla città. Alla fine della giornata tutti i capi gran formiconi nella bella tavolata si dividono i bricioloni. Mentre invece le formicuzze radunate in un angolino si dividono le bricioline e poi vanno a riposare. Gli altri operai sono tutte in volo a succhiar di fiore in fiore alla fine del lavoro portano a casa tanto miele mentre invece la regina che comanda nell'alveare prese casa a riposare e se ne ha voglia ammazza il fuoco. Se per caso scoppia la guerra col Vespaio lì vicino a dichiararle la regina ma la combatte l'operaria. A parte questo tutto va bene e prolifico l'alveare tutti hanno una bella cera e si vive in libertà. Gli omarini vanno tutti in fila all'ufficio, all'ufficina con la bella macchinina quando fa caldo e quando gela. Alla fine di ogni mese con i loro bei macchinoni vengono i capi omaroni e consegnano le buste. Nella busta dell'omarino ci sono tanti bei soldini nella tasca dell'omarone ci sono tanti bei soldoni. Torna a casa l'omarino con la bella macchinina guarda il televisorino con accanto la figliorina Torna a casa l'omarone con la bella macchinona guarda il televisorone con accanto la figliolona L'omarino al frigorino, l'omarone al frigorone uno mangia la minestrina, l'altro mangia il minestrone. A parte questo tutto va bene, o pardon, tutto va bene. va benino, anche se alle volte pare che tutto quanto vada benone resta solo da vedere cosa c'è traoneino forse manca una rotellina dati da fare, metti lassù e se poi non la mettiamo? E se poi non la mettiamo? Tutti in coro continuiamo questo allegro girodondo che percorre il nostro mondo formigrini e formiconi, o marini e l'omaroni ai cattivi va il carbone, ai più buoni il sabaglione è la legge del maestro che obbedisce al direttore è la legge del ministro che obbedisce al superiore è la legge del profitto è la legge della vita la canzone è già finita è la legge dello stato che la scuola ci ha insegnato cos'era successo signor maestro professore? è un equivoco, un'interferenza o forse un attentato un'azione di forza un cortocircuito insomma qualcosa di anormale non pensateci più dimenticate quel che avete visto sono cose che accadono lontano lontano in paesi barbari abbandonati da dio dove si è dimenticata ogni regola del vivere civile dove regnano il disordine la violenza, il fanatismo dove si parla di lotta di classe di rivoluzione e questa è una brutta parola che non piaceva a Don Bosco cancellate questa parola dal vostro vocabolario e il suo significato dal vostro animo essa non ha mai portato fortuna a nessuno basti l'esempio della rivoluzione francese sapete perché scoppiò la rivoluzione francese e quali conseguenze ebbe per la Francia? la rivoluzione francese scoppiò perché avvocati e giornalisti dicevano che da oltre 70 anni esisteva una società segreta che aveva concluso un accordo per creare una carestia artificiale per affamare il popolo insomma fu tutto un equivoco vega di corridoio dopo la presa della bastiglia mentre l'assemblea nazionale era al lavoro ci fu una corsa sfrenata alla libertà e all'uguaglianza non si pagavano più tributi il re venne decapitato la regina violentata e i principini rapiti messi in pentola dal popolo affamato questo succede quando si scatena la piazza la Francia cadde sempre più nel caos salirono al potere uomini sanguinari che si ammazzavano fra loro fra un'orge e l'altra nelle maschere a bagno del palazzo reale migliaia di nobili sacerdoti furono bigliottinati tutta brava gente con la testa sul collo in quanto la bestia puntiranno spietate e crudele che tutti odiavano mai più mai più mai più rivoluzioni chi ha seguito il cattivo esempio si ritrovato male basti pensare alla russia che se talmente vergognata da cambiare nome per non farsi riconoscere adottandolo pseudonimo di unione sovietica a cuba dove per la stessa ragione tutti portano la barba alla cina dove i mandarini non crescono più fanciulli imparate tenetevi alla larga dalle rivoluzioni e dalla politica che è l'anticamera di quegli scontri di classe che dovete imparare ad avvorire o meglio ancora ignorare fin d'ora che sedete mi si perdono il bisticcio in una classe dove viva Dio non ci sono differenze perché il maestro e i libri di testo sono uguali per tutti su via su via eseguiamo ora per risollevarci lo spirito uno spensierato canto corale un canto pieno di salute d'aria buona un canto che ci ricorda le allegre scampagnate domenicali quando il babbo dopo aver guidato per tanti chilometri si riposa sotto un pioppo annerito dal fumo delle operose ciminiere leggendo la gazzetta dello sport e la mamma canticchiando sull'erbetta pallida prepara la buona carne in scatola per il picnic viva viva la castagna frutto dolce e saporito che da tutti è preferito essa è il re della montagna viva viva la castagna finalino aggiunto ma non inventato ma no ma no signora si calmi suo figlio non è mica morto è solo stordito un po' emarginato leggermente selezionato si riprenderà a tutto c'è rimedio si rivolga allo psicologo o all'assistente sociale vede sarà rimesso a nuovo ce ne sono tanti come lui credeva che fosse il solo è la sorte che tocca al 40% degli alunni ma per suo figlio faremo uno strappo sa cosa le dico? lo mandiamo alla differenziale presto voi datevi da fare con la respirazione artificiale un sulle braccia due giù la testa tre bocca a bocca vede respira su signora collabori anche lei eseguiamo insieme il canto della respirazione artificiale scritto dai negretti della scuola differenziale di Memphis nel Tennessee e divulgato in Italia nel quadro degli scambi culturali con gli Stati Uniti promosso dall'USIS United States Information Service Ciao bambini italiani come noi disadattati noi qui siamo felici saremo recuperati con la respirazione artificiale è un metodo mondiale un sulle braccia due giù la testa tre bocca a bocca inspirare profondamente è bello rivivere rivivere così ci sembra di baciare il presidente un sulle braccia due giù la testa tre bocca a bocca sei un fiore calpestato ma un'ombra si china si china su di te quell'ombra è lo stato un sulle braccia due giù la testa tre bocca a bocca piegare le ginocchia espirare lentamente ti senti tirar su di nuovo bocca a bocca il presidente lo stato amoroso ti prende per mano ti dà il tuo respiro per farti guarire e questo vuol dire e questo vuol dire che non si lascia un fiore appassire un fiore appassire un sulle braccia per lavorare due giù la testa per obbedire tre bocca a bocca per respirare all'uniciano con chi ti sa salvare lo stato italiano sappiamo che è buono infatti è molto amico del nostro e quindi cantiamo con voi tutti in coro l'internazionale 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 come noi come noi disadattati non siate troppo tristi sarete reinseriti in fabbrico nei campi troverete la pace l'equilibrio e la salute se con noi voi canterete un sulle braccia per lavorare due giù la testa per obbedire tre bocca a bocca per respirare all'uniciano con chi ti sa sfruttare un sulle braccia per lavorare due giù la testa per obbedire tre bocca a bocca per respirare all'uniciano con chi ti sa sfruttare un sulle braccia per lavorare due giù la testa per obbedire tre bocca a bocca per respirare all'uniciano con chi ti sa sfruttare un sulle braccia per lavorare due giù la testa per obbedire E se poi questo riadattamento non si verifica? Pazienza! Nessuno starà a sottilizzare Nessuno verrà a controllare se vostro figlio ha terminato la scuola L'obbligo scolastico non ha l'aria truce caparbia di un esattore delle tasse Viviamo in un paese libero e generoso Un paese che ama i bambini Anche a vostro figlio un giorno sorriderà la vita Sollevando il capo dal tornio Guarderà i suoi compagni di reparto Le belle tute blu allineate in fila E mentre i rumori delle macchine Riempiranno l'aria in un empito virile Come inno alla laboriosità che prelude al paradiso Penserà Che fortuna in fondo aver interrotto gli studi O corso il rischio di prendere un diploma O addirittura una laurea Meglio così Molto meglio la mia sintassi incerta E la mia brusca saggezza popolare Frutto dei sacrifici e privazioni Di tante e tante generazioni Di lavoratori simili a me Meglio il mio cortile proletario Con i mille odori e gli strilli dei bambini E i tanti camini per le stufe a cherosene Meglio la fabbrica Dove la giornata è piena di imprevisti Dove il padrone mansueto accoglie Le richieste della classe operaia Una mano sul cuore e l'altra sul revolver Che se solo è possibile non spara Per quanto siano forti La tentazione e il magone Di chi sente il dovere Di conservare il potere E con nel cuore un raggio di sole Che le giadro penetra dai finestroni Il vostro ragazzo Così precocemente adulto Chinerà nuovamente il capo sul tornio E nessuno Nemmeno il cronometrista O il caporeparto Potrà impedirgli di tornare Per un istante bambino E di sognare 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 E sono passate le guerre Tapu Passo la resistenza Quante generazioni Tapu All'ombra del tricolor Siamo arrivati al mille Tapu E novecentosettanta Sono sempre quelli padroni Tapu All'ombra del tricolor Spesso promossa in matino Tapu Sempre bocciata in istoria L'Italia è ripetente Tapu All'ombra del tricolor Pesso promossa in latino Tapu Sempre bocciata in istoria L'Italia è ripetente Tapu All'ombra del tricolor All'ombra del tricolor All'ombra del tricolor All'ombra del tricolor Grazie a tutti.